Capitolo 25 Quando entrai in casa ero tra le nuvole, presa a ripetere mentalmente tutto ciò che era appena successo. Questo finché non sentii mia madre e Susanna litigare in salotto. Fui colta dallo spavento come un pugno serrato attorno al cuore. Loro non discutevano mai e le avevo viste litigare soltanto una volta. Era accaduto l'estate prima. Eravamo andati a fare acquisti al centro commerciale a un'ora di distanza da Cousins Beach. Era all'aperto di quelli in cui si può portare a spasso i cagnolini con simpatici guinzagli. Vidi un vestito di chiffon viola con spalline sottili che scendevano sulle braccia, troppo serioso per la mia età. Lo adoravo. Susanna disse che avrei dovuto provarmelo, tanto per levarmi lo sfizio, così lo provai. Non appena me lo vide indosso, disse che dovevo assolutamente prenderlo. Mia madre scosse subito la testa e replicò, ha 14 anni, dove se lo mette un vestito del genere? Susanna rispose che non aveva importanza, che mi stava a pennello. Io sapevo che non potevamo permettercelo. Mia madre aveva appena divorziato, dopo tutto, ma la implorai comunque. La supplicai. Si misero a litigare nel negozio, di fronte a tutti. Susanna si offrì di comprarmelo e mia madre rifiutò. Io dissi che non importava, che non lo volevo, anche se non era vero. Sapevo che mia madre aveva ragione. Non me lo sarei mai messo. Quando alla fine dell'estate tornai a casa, trovai il vestito nella mia valigia, avvolto nella carta velina e sistemato con cura sopra gli altri, come se fosse sempre stato là. Susanna era tornata al negozio per comprarmelo. Quel gesto era proprio da lei. In seguito mia madre sicuramente notò il vestito nell'armadio, ma non disse niente. Mentre ero ferma nell'ingresso, a origliare, mi sentii la spia che Steven mi aveva sempre accusato di essere. Tuttavia, fu più forte di me. Udì Susanna a dire, Laurel, sono adulta, sai. Bisogna che tu la smetta di gestire la mia vita. Spetta a me decidere come viverla. Non aspettai la risposta di mia madre. Entrai nella stanza e chiesi, che succede? Guardavo mia madre dritta in faccia mentre parlavo e mi accorsi di avere un tono di rimprovero, ma non mi importava. Niente, va tutto bene, rispose mia madre, ma aveva gli occhi rossi e stanchi. E allora perché discutevate? Non stavamo discutendo, tesoro, mi assicurò Susanna. Allungò una mano e mi accarezzò la spalla, come a voler lisciare una seta sgualcita. Va tutto bene. Non mi pareva. E invece sì, insistette Susanna. Me lo giuri? Le chiesi. Volevo crederle. Te lo giuro, rispose lei senza esitazioni. Mia madre si allontanò e dalla rigidezza delle sue spalle. Capì che le cose non andavano affatto bene, che era ancora arrabbiata, ma siccome volevo stare con Susanna, per la quale andava tutto bene, non la seguì. Mia madre, comunque, era il genere di persona che preferiva stare da sola. Chiedetelo a mio padre. Che cos'ha? Sussurrai a Susanna. Niente. Raccontami del tuo appuntamento con Cam, disse, portandomi al divano di vimini della veranda. Avrei dovuto insistere, avrei dovuto cercare di capire cos'era veramente successo tra loro, ma la mia preoccupazione stava già svanendo. Volevo raccontarle tutto su Cam, tutto quanto. Susanna era proprio brava a farti venire la voglia di rivelarle ogni tuo segreto. Si sedette sul divano. Io mi sistemai accanto a lei e poggiai la testa sul suo grembo, mentre lei mi toglieva i capelli dalla fronte. Mi sentivo al sicuro e a mio agio, come se quella lite non fosse mai accaduta. E forse non era neppure stata una lite, forse avevo frainteso tutto quanto. Beh, è diverso da chiunque altro, presi a dire. Come mai? È intelligentissimo e se ne frega di cosa pensa la gente. Ed è così bello. Mi sembra incredibile che si interessi proprio a me. Susanna scosse il capo. Oh, per cortesia, ma certo che è interessato a te. Sei così incantevole, tesoro. Quest'estate sei davvero sbocciata. È impossibile non notarlo. Ma dai, risposi. Ma ero lusingata. Era così brava a far sentire speciali le persone. Sono felice di poter parlare con te di queste cose. Anch'io ne sono felice. Ma sai, potresti parlarne anche con tua madre. A lei non importerebbe nulla. Fingerebbe, ma non lo sarebbe. Oh, belli, questo non è vero. Le importa di te. E come? Susanna mi prese con delicatezza la testa tra le mani. Tua madre è la tua più grande sostenitrice, al pari di me. Lei si interessa a tutto ciò che fai. Non escluderla. Non mi andava più di parlare di mia madre. Volevo parlare di Cam. Non immaginerai mai cosa mi ha detto Cam stasera, presi a raccontare. Capitolo 26